vai bilanciere 20 kg disco da 10 disco da 10 totale 40 kg calorie low count is afer ossa pack s s Grazie. A dieci parti. Sì. Vai. Sì. 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 Grazie a tutti. Ciao, Dani. Uno. Due. Grazie. Sei. 7, 8, 9, 10, dai, 3, 2, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dai, 17, 18, 19, 20, 20, 21, ok, 3 minuti 2 minuti 3 minuti 9 10 ok dai 11 dai subito 12 13 finisci 14 ottimo dai luce 15 dai Vai, due. Così, dai subito, 40 secondi. Uno. Due. Dai. 20 secondi, tre. Quattro. Otto. 15 secondi. Cinque. Dai. Andiamo. Sei. Dai. Sette. Stop. Stop. Dai. Appena riesci attacco. Dai. Uno. Due. Stabilizzati bene. Tre. Così. Quattro. Tienilo. Cinque. Ottimo. Sei. Sette. Ancora un minuto. Dai. Resfira. Dai che ci sei. Dai. 50 secondi. Ok. Otto. Tienilo. Bene. Nove. Dieci. Dieci. Undici. Undici. Dodici. A 40 riprendilo e fai tutti quelli che hai. Dai. Tre. Due. Uno. Vai. Vai. Dai. Dieci secondi. Tredici. Dai. Ancora uno. Subito. Tre. Stop. Stop. Tredici. Tredici. Tredici.